che cos'è la confermazione la confermazione è il sacramento che completa il battesimo nella cresima veniamo rafforzati dallo spirito santo aspetta un secondo non abbiamo già ricevuto lo spirito santo nel battesimo insieme alla grazia santificante esatto nel battesimo siamo stati santificati mediante la grazia santificante la nostra anima è diventata dimora di dio ed è soprattutto lo spirito santo che prende dimora nell'anima per mezzo dello spirito santo siamo elevati alla vita della trinità e lui accompagna le nostre azioni con la sua potenza quindi perché abbiamo bisogno dello spirito santo ancora nella cresima ma è come nei vangeli in cui viene dato lo spirito santo agli apostoli non una ma ben due volte la prima volta dopo la risurrezione di gesù e poi di nuovo a pentecoste dopo la sua risurrezione gesù alita sui suoi discepoli e dice ricevete lo spirito santo lo spirito santo è come un soffio di vita che santifica i discepoli riapre loro la comprensione della scrittura lo spirito santo insegna e li guida ma ancora loro lo tengono per sé essi pregano e vivono nascondendosi mentre la loro fede cresce a pentecoste tutto questo cambia lo spirito santo si presenta come un vento ruggente e come lingue di fuoco e i discepoli cominciano ad annunciare la fede apertamente con forza e coraggio questo è simile a ciò che accade nel battesimo e della cresima nel battesimo riceviamo lo spirito santo siamo santificati da lui e cominciamo a condividere una vita nuova proprio nella confermazione lo spirito santo ci fortifica in modo da avere il coraggio di portare questo dono nel mondo è proprio quando abbiamo ricevuto la cresima che siamo chiamati ad annunciare la nostra fede con coraggio e convertire persone per cristo come gli apostoli la confermazione e quindi un incoraggiamento a essere un suo coraggioso testimone del regno di dio con la forza della cresima siamo in grado di preservare proclamare e difendere la fede